Mi chiamo Andrea e ho appena preso questa piccolina qua Ho frequentato l'autoscuola Marino Borotto in qualche mese Passata la teoria, molto volentieri ho frequentato il corso che è stato istruttivo, divertente E soprattutto mi ha fatto maturare decisamente per quanto riguarda la guida La consapevolezza dei rischi della strada e dell'uso della moto Che è la patente che ho appena fatto Poi che dire, anche la pratica mi sono trovato molto a mio agio con l'istruttore Molto simpatico, molto attento alle mie esigenze di me che guidavo la moto Oggi ho conseguito l'esame con successo Assieme ad altri due ragazzi anche essi sono passati brillantemente Adesso mi sento molto più sicuro di andare via per la strada Molto più maturo, molto meno incerto da certi punti di vista Ci andrò molto più lietamente senza nessun rischio Che dire, consiglio l'autoscuola a tutti perché mi sono trovato veramente bene E siamo qua da Marino Volotto a Ponso Ciao ciao